Buongiorno, nonostante i problemi di connessione, perché Telecom ci ha comunicato di averli risolti, purtroppo mi sembra che continuino, riproviamo anche oggi con la scuola di seduzione. Il tema di oggi è depressione e matrimonio. Possono durare oltre il weekend? E l'amore può andare oltre il weekend? L'amore è ovviamente quello vero. Perché questo tema? Perché almeno per le donne sembra che un matrimonio sbagliato sia una delle principali cause di depressione. Ora è evidente che non possiamo generalizzare il discorso post hoc ergo propter hoc, cioè se una cosa avviene dopo un'altra vuol dire che quella è la causa di questa cosa. Tanto do un saluto a Giuliana Tessari, la nostra prima partecipante, quindi mi sento autorizzato ad andare avanti fino a che Telecom non ci separi, come si dice. Allora dicevo, il matrimonio, un matrimonio sbagliato ovviamente, come una delle principali cause di depressione non per gli uomini ma per le donne. Perché purtroppo, ci piaccia o non ci piaccia, l'uomo tende a scaricare aggressivamente le sue frustrazioni, con un'aggressività anche fisica. La donna tende più a introiettare le sue frustrazioni, i suoi errori esistenziali e quindi si espone per esempio a maggiori rischi di depressione. Quindi ci sono depressioni, ci sono situazioni negative che possono durare molto a lungo oppure, come dire, risolversi in poco tempo. Cioè se una donna, per esempio, non si è impegnata, legata in una relazione sbagliata, beh, come si dice comunemente, avanti un altro, morto un papa, se ne è un altro, può iniziare se vuole una nuova storia e quindi, come si dice, la depressione non dura oltre un weekend. Ora il famoso weekend che io suggerisco, prima di fare matrimoni sbagliati, de sexo y passion. Ma naturalmente il matrimonio è difficile che possa essere risolto, se sbagliato, semplicemente in un weekend. Ora l'aforisma che io ho messo, così, è mio nel senso che ho utilizzato una base già nota, che ho porto sul mio profilo di Facebook oggi è, non è vero che sia sposarsi il peggior di tutti i mali. Conoscete sicuramente la versione più famosa che è, oh, mi annunciano che la connessione è instabile. Attendi mentre tentiamo di ristabilirla. Mi state vedendo e sentendo, datemi una comunicazione per favore, per evitare che io parli, come si dice, all'universo ma a vuoto. Sì, non so cosa voglio dire, adesso va, grazie. Scusate queste interruzioni, ma purtroppo c'è una probabilmente maledizione cosmica che avviene tramite Telecom sulla mia linea. Allora dicevo, non è vero che sia la morte il peggior di tutti i mali e io dico, siccome continuano ad esserci tante persone letteralmente fobiche, cioè non si rendono conto di avere loro un problema psicologico di base, quindi la loro fobia nei riguardi del matrimonio è legata a insicurezze, frustrazioni sessuali, il fatto che non vogliano far scoprire ad un eventuale altro partner, se la loro sostanziale impotenza o comunque, come si dice, il complesso di Barba Blu. Vi ricordate il film, la storia di Barba Blu, quando le povere, bellissimo, ricchissimo, affascinantissimo, ma quando scopriva le povere disgraziate che lui facilmente seduceva, scoprivano la sua sostanziale impotenza, le uccideva, insomma, naturalmente. Quindi non è vero che sia sposarsi il peggior di tutti i mali, perché è il matrimonio che non avrebbe dovuto essere fatto e che invece viene fatto in genere per superficialità o per altri motivi meno nobili, ma che comunque non non fanno diventare una cosa sbagliata, non la fanno diventare giusta. Ma se invece, come io sostengo, è fatto bene, di nuovo mi dicono che la connessione sia instabile. Attendi mentre tentiamo di ristabilirla. Mi continuate a vedere e sentire? Per favore qualcuno mi dica sì, ti vedo. Sì, ti sento. Si vede bene. Perfetto, grazie Pietro. Allora, dicevo, se invece, come tutte le cose serie ed importanti, viene affrontato nel modo giusto, cioè con la giusta conoscenza di se stessi, con la giusta fondata autostima, con la giusta conoscenza dell'altro, con la giusta frequentazione dell'altro, beh, se i due condividono una sostanziale progettualità esistenziale senza nascondersi i problemi e le difficoltà che la vita eventualmente potrà loro riservare, spesso imprevedibili naturalmente, cioè nell'ordine del possibile, ma non è detto che accadano e soprattutto non si sa quando eventualmente accadranno, beh, il matrimonio può andare bene nonostante tutto e nonostante tutti. Gran parte dei matrimoni, dei matrimoni, virgolette, sbagliati, cioè quelli che non avrebbero dovuto essere fatti prima, è lì il punto, non è che il matrimonio è sbagliato, è stata, come dire, non nobile, non corretta la decisione di sposarsi, cioè è stata presa alla leggera, non è stato dato un giusto valore a quello che per esempio nella cultura cattolica viene considerato un sacramento, cioè qualcosa, un'unione sacrale, perché sia vero o non vero il fatto che Dio unisca e quindi che gli uomini, le donne non debbano separare ciò che Dio ha unito, questo è un altro discorso. Ma nel termine sacrale, cioè il matrimonio è un sacramento, praticamente andiamo a dire che il matrimonio è anche un sacrificio, cioè qualcosa che fa diventare sacra, quindi più del valore normale di qualsiasi cosa, una scelta, una decisione, un delizioso altro aforisma. Per esempio uno dei problemi nel matrimonio è chi debba comandare, chi debba avere più ruolo. Ora in linea di principio, al di là delle chiacchiere anche giuridiche, cioè della sostanziale parità tra i coniugi, ma è evidente che non c'è parità, il coniuge che lavora e come si dice porta a casa lo stipendio avrà inesorabilmente un peso maggiore nelle decisioni. Siccome ancora nella nostra cultura questo è più appannaggio degli uomini che non delle donne, è evidente che gli uomini si arrogano diritti e poteri maggiori di quelli che dovrebbero avere o che comunque meritino. c'è una foria interessante. Quando la casa brucia, è più saggio rimandare la discussione su chi debba riempire i secchi per spegnere l'incendio. Cioè quando la casa brucia, quando ci sono i problemi davanti a un'emergenza, tutti quelli che possono dare una mano, indipendentemente dal loro ruolo, indipendentemente da altre considerazioni di carattere sociologico, dovrebbero fare la loro parte. Nella logica, nella logica molto bella, è una logica cristiana, però io direi che è condivisibile tranquillamente anche in una mentalità laica, totalmente laica come quella che io sostanzialmente propongo. Cioè la frase latina, omnia vincit amor, cioè l'amore riesce a vincere ogni cosa e riesce a superare ogni cosa. Ma attenzione, non l'amore sciocco di due innamorati nella fase di innamoramento in cui lui non capisce niente perché vede solo lei, lei non capisce niente perché vede solo lui, non vogliono ascoltare i consigli degli altri eccetera. Ma l'amore maturo, l'amore serio, l'amore basato su manovre per così dire seduttive, basate su quella che io chiamo seduzioni per amore, basate sulla onesta, in buona fede, consapevolezza di essere la persona giusta per l'altro, di voler essere la persona giusta per l'altro, non solo di essere, ma di voler continuare ad essere per tutta la vita, fino a che morta non ci separi, la persona giusta per l'altro. E l'onesta, in buona fede, speranza, consapevolezza, ma qui è chiaramente un atto di fiducia perché riguarda un'altra persona, che anche l'altra persona, il partner, la partner, vorrà essere, vorrà continuare ad essere, paratò dalla vita, per tutta la vita, la persona giusta per noi. Su queste basi state tranquilli che il matrimonio durerà e sarà bellissimo per tutte e due, nonostante le difficoltà, i problemi, gli imprevisti che possano aver passato assieme. Anzi, saranno proprio quelle difficoltà, quegli imprevisti, quelle prove superate assieme, che, virgolette, faranno loro battere il cuore anche dopo 40 anni, anche dopo 50 anni, anche vecchi e rimbambiti, diciamo così, seduti su una panchina ai giardinetti a ripensare, a ricordare la loro vita. Però, come si dice, i matrimoni non sono sempre rose e fiori, sempre in genere, io immagino 99 volte su 100 per le considerazioni sbagliate prima, è un film che rappresenta tutti gli errori possibili che si possono fare nel decidere di sposarsi e soprattutto tutti gli errori possibili che si possono fare dopo che ci si sia sposati e per un qualunque motivo, anzi, per una catena di possibili motivi, le cose cominciano ad andare bene, è quel famosissimo, bellissimo, terribile film di Danny DeVito, regista Danny DeVito, La guerra dei Rose, con due splendidi e terribili Kathleen Turner e Michael Douglas, il fivo, perché ti fa vedere quello che accade quando l'amore viene messo da parte. Quando l'amore viene messo da parte, attenzione, non sto dicendo quando l'amore finisce, sto dicendo quando l'amore viene messo da parte, rivedetelo, ma oggi è, almeno qui a Roma, nel meridiano di Roma, oggi è il 23 agosto, il 23 agosto è l'anniversario della morte della mia carissima amica e collega Maria Agnese Neri, nata a Grosseto il 30 giugno del 1930, morta, appunto, a sempre a Grosseto, il 23 agosto del 2012. Lei è anche bravissima critica d'arte, bravissima psicoterapeuta e ipnotista, ma era anche una scrittrice, scrittrice di racconti, soprattutto racconti di ecologia, di educazione ambientale, si direbbe forse più correttamente oggi, ed era anche una fine poetessa e ho trovato, l'avevo ritrovato qualche giorno fa e l'ho messo da parte proprio per poterlo presentare oggi, ho trovato questa antologia, non so se riuscite a vederla, antologia di racconti, poesie e anche opere pittoriche, presentata in occasione del premio letterario AIEC CIPIA, AIEC era l'Associazione Italiana per l'Educazione di Comunità, il CIPIA era il, presieduta da Maria Agnese Neri, il CIPIA era il mio centro di ipnosi applicata, il centro italiano di ipnosi e di psicologia di ipnosi applicata, organizzato insieme al comune di Grosseto nel 2002 e il 2003, sul tema della maremmanità, o meglio, sul tema della laboriosità nella vita, sul tema dell'amore, cioè quindi di amori senza tempo e amori di ogni tempo, e sulla base della cultura degli adulti, cioè la cosiddetta cultura degli adulti, educazione di comunità, il cosiddetto lifelong learning, cioè l'apprendimento che avviene per tutta la vita. Ci sono qui dentro tutta una serie di racconti, di poesie e di illustrazioni, di dipinti, ma vi leggo brevemente, prima di leggervi qualche cosa di Poliziana, che era lo pseudonimo di Maria Agnese Neri, in modo da farvi capire meglio, diciamo, che cosa raccoglie questa antologia. Questa raccolta di racconti e poesie, ispirati a valori di operosità e tenacia, e all'eterno sentimento dell'amore, offre al pubblico distratto del terzo millennio motivo di riflessione sul senso della vita e sul prezzo che le passate generazioni hanno pagato al progresso e l'amare immanità. I racconti si ispirano a storie scritte nella realtà, con il sudore della fronte degli avi. Le poesie esprimono, in forma sintetica, il rapporto emozionale con l'oggetto d'amore che alimenta la vita. Ne è uscita una produzione varia come varia la personalità dei partecipanti, sicché l'antologia appare come un campo fiorito, dove ogni fiore, entrato con impegno e con amore, ha un suo colore e un profumo proprio, e una sua vita proiettata nel futuro. Infatti, come tutti sapete, l'antologia in realtà è una raccolta, un collegamento e un mazzo di fiori, quello che si chiamava un florileggio, cioè la raccolta dei migliori fiori poetici o comunque letterari degli scrittori. Fanno parte dell'antologia anche otto pittori dell'AIEC, con tavole in bianco e nero, a tema libero. Prima di leggervi qualche verso di Maria Agnese Neri, che mi piace ricordare in questo modo, voglio rapidamente ricordare alcuni degli autori e dei pittori, molti dei quali ho conosciuto, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente, perché, come sapete, come ho già detto molte volte, il ricordare, il nominare è anche benedire. Quindi permettetemi di farlo. Allora, intanto l'introduzione è di Fulvia Perillo e di Eraldo Camarri. Anche Eraldo Camarri, il professor Camarri, anche lui è grande medico, è un grande scrittore, molto colto, anche sul piano esoterico non c'è più. Comunque, i nomi dei partecipanti sono Alvo Carusi, di cui vi ho letto tempo fa una poesia, Marco Ciacci, di cui credo aver letto anche qualcosa, Floriano Marchini, Marcella Marracini, Vice Minacci, Patrizio Piccioni, Poliziana e Maria Agnese Neri, Maria Ronzini, di cui credo avervi già letto qualcosa, Norberto Sabatini, finissimo scrittore, Francesca Romana Sabella, Sirio Tambelli, di cui ho letto anche qualcosa, Antonella Brozzi, Alvo Carusi, Oriente D'Urso, Tamara Gigli, Irene Greco, Pier Giorgio Marchi, di cui vi ho letto qualcosa, Floriano Marchini, Marino Pinzi, Adriano Lorenzo Poletto, Maria Ronzini, Antocchio, è un stacchio Antonio Sarra, l'ingegnere poeta, di cui vi ho già letto qualcosa, Adriana Vitale, naturalmente, di cui vi ho letto qualcosa, Guido Vitale, il padre di Adriana Vitale, Raffaele Votta, mentre per la parte delle opere figurative devo citare Giovanna Alberti, bravissima pittrice di Genova, Lina Bartoli, pittrice marimana, Alda Casini, anche lei è una bravissima illustratrice e disegnatrice toscana, Michela De Angelis, Anna Natale, di cui vi farò vedere qualcosa perché mi ha fatto, non posso farvelo vedere perché ce l'ho di fronte molto grande, mi ha fatto un ritratto. Io ho avuto l'onore di avere un busto in bronzo di una bravissima scultrice, Diana Saputi, e ho avuto l'onore di avere un ritratto, un ritratto di quelli belli, che starebbero belli in un castello scozzese, insomma, anche italiano mi accontenterei, e è fatto da Anna Natale. Quindi Anna Natale, poi naturalmente i pittori Dino Paoletti, Sandra Parisi e Francesca Romana Sabella. Vi faccio vedere subito, per paura che cada la linea, il quadro fatto da Anna Natale. Anna Natale è la pittrice sopra, invece qui sotto c'è questo bellissimo, seriosissimo quadro che mi ha fatto, un bel dipinto, mi piace molto. Allora, cominciamo a leggere qualcosa di Maria Agnese Neri, Poliziana. Vola verso il magico blu. È una favola di educazione ambientale per bambini. Non vi racconto la favola, non vi leggo la favola, vi leggo soltanto alcuni versi, perché nel racconto uno dei personaggi, uno dei personaggi fa parlare gli animali, naturalmente, dice Rondinella dolce Gaia, ti rivedo finalmente. La tua casa, la grondaia, ti aspettava ansiosamente. Da sei mesi non tornavi, al tuo nido non pensavi? Sempre rosso ricordavo il mio nido nel fienile, Nella notte lo sognavo, mi parea che fosse aprile, mi parea ad essere qua, tutto amor e felicità. Rosso si affiancò subito a Rondinella e insieme volarono al vecchio nido sotto il tetto del fienile. Giunti al nido, Rosso continuò. Rondinella, avrai viaggiato con le alucce di veluto? Quanti luoghi hai visitato? Quanti posti hai tu veduto? E se dirmi, Rondinella, Qualcontrada è la più bella? Ho viaggiato avanti e indietro, dall'Egitto all'Uccellina, ho nel cuore il mio segreto che mi porto qui vicina. Nel deserto dell'Egitto ogni pietra ha la sua storia e la storia muore l'arablo che esplode sui passanti la sua furia. L'Uccellina è un parco naturale molto bello nella maremma grossetana, a sud di Grosseto, tra l'argentario e Grosseto. E Rondinella concluse, quindi chiudo brevemente. Ho viaggiato tutto il mondo con le alucce di velluto, il paese più fecondo, il più bello che ho veduto è tra il mare e la collina e lo chiamano Uccellina. Se non conoscete il parco dell'Uccellina, appunto nella maremma, credo che valga veramente la pena di andarla a vedere. È bellissimo, gli aironi, i finicotteri, insomma, una fauna soprattutto alata, molto molto bella, ma il paesaggio è molto bello. Bene, allora, sperando che la linea continui, felice di avervi, e amore, di nuovo, la connessione è instabile, attendi mentre tentiamo di ristabilirla. Mi sembra che vada avanti. Allora, voi sapete che io credo nella reincarnazione e sapete anche che come ipnotista una delle più frequenti richieste è di fare ipnosi regressiva alla ricerca di testimonianze di vite precedenti. In genere, questa richiesta ha come obiettivo quello di ritrovare vecchi, perduti, amori del passato. allora, la domanda, cioè, in genere, la speranza è di ritrovare il senso di storie più o meno belle, più o meno brutte, più o meno giuste, più o meno sbagliate del presente che non sembrano funzionare come le persone vorrebbero. E allora si crede che il recuperare, riannodare i fili con vecchie storie del passato, magari di altre vite, permetta di aggiustare il presente. Ora, premesso che, come dire, può darsi pure che le spiegazioni siano in storie sbagliate del passato, ma come io vi ho detto tante volte, io credo alla reincarnazione a prescindere dall'ipnosi regressiva, la domanda seria è ma indipendentemente dal fatto che tu possa aver avuto una storia finita male nel passato, se ora hai una storia problematica nel presente, cerca di capire nel qui ed ora se e che cosa potresti fare per far andare bene la tua storia del presente. Allora, Evaldo Cavallaro come primo consiglio dice se vuoi ragionevolmente costruire una vita, un futuro affettivo bello, buono, sereno e soprattutto valido se decidete di avere figli, evitate di fare errori di scelta basate sulla passionalità, cioè il matrimonio, il progetto di una vita in comune non può, non deve essere basato sulla passione, perché la passione inesorabilmente terminerà dopo un po' di tempo e soprattutto le scelte fa prendere decisioni utili nel lungo periodo. Quindi quella, la scelta matrimoniale è una scelta che va fatta con la serietà e serenità della ragione condita con l'amore, cioè condita con il 51% di amore e il 49% di passionalità, perché se scegliamo di fare un passo, come potrebbe essere quello matrimoniale, per esempio, bastandoci sul 51% di passionalità, inesorabilmente dopo un po' la nostra ragione che prenderà il sopravvento ci farà scoprire di aver fatto qualcosa di sbagliato. Bene, nel dubbio che la linea cada, vorrei chiudere l'incontro di oggi ringraziandovi per l'attenzione, sperando che non ci siano stati mancamenti, che credo ci siano stati mancamenti di connessione, ma spero non gravi, e vi auguro buona vita e soprattutto buoni amori e rivedetevi il film La guerra dei Rose. se vi capita, se non siete ancora sposati, se siete sposati rivedetelo per evitare la loro fine. Grazie ancora e buona vita. Massimo Tramasco mi dice tutto ok, grazie a voi di essere sopravvissuti anche oggi e buona vita a tutti. Buona vita a Pietro che è l'ultimo che vedo in questo momento. Grazie. 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 Grazie.